Stasera avremo la riunione del Comitato per decidere cosa fare nell'eventualità ci dovesse essere pioggia sabato, però la manifestazione è confermata. Il Presidente del Comitato 1987 conferma la manifestazione di piazza per il passaggio del nuovo tracciato dell'alta velocità nel Golfo di Policastro. Dal Ministero e dalla Regione non arrivano rassicurazioni in tal senso e così il Comitato ha deciso di continuare la lotta con il supporto dei cittadini. Confidando in una massiccia partecipazione allo sciopero programmato per sabato prossimo 23 ottobre a Sapri. I dettagli della giornata saranno definiti nelle prossime ore. Sarà comunque una manifestazione pacifica e con un unico obiettivo evitare che venga perpetrato un grave furto a danno dei cittadini del Basso Salernitano. Il Comitato continua a chiedere che RFI attui il secondo studio di fattibilità che prevede il passaggio dal Vallo di Diano al Golfo di Policastro e Praia Mare, mentre in quello in discussione l'alta velocità, una volta attraversato il Vallo di Diano, raggiunge il Lagone Grese e poi Praia Mare. Un appello a tutte quante le popolazioni del Golfo, ai sindaci, ai rappresentanti del parco. È importante questa nostra manifestazione per sensibilizzare ancora di più quello che pare cominci a convincere i responsabili a rivedere un pochino il progetto che hanno messo in atto. Il Comitato attende risposte anche dal Ministro per il Sud, Mara Carfagna, al quale, attraverso l'Onorevole Gigi Casciello, ha fornito tutta la documentazione a supporto della vertenza. Noi non possiamo essere esclusi da questa opportunità di utilizzare, di avere accesso all'alta velocità.